berlusconi ama il milan galliani voleva i 25 silvio berlusconi e il suo amore per i lazzi milan un'eredità calcistica unica silvio berlusconi e il suo amore per i laz milan un'eredità calcistica unica silvio berlusconi il controverso politico italiano e magnate dei media non è noto solo per la sua carriera senza precedenti nella politica italiana e nei media il suo profondo affetto ed edizione per il club di calcio ac milan gli hanno procurato altrettanta ammirazione e rimangono una grande parte del suo lascito berlusconi che ha acquistato il club nel 1986 ha portato il milan alla fama internazionale e ha regalato ai tifosi innumerevoli momenti indimenticabili l'ascesa della c milan sotto berlusconi quando berlusconi ha preso il controllo della c milan il club si trovava in una situazione precaria il club un tempo uno dei leader del calcio europeo si trovava in crisi e rischiava di scomparire nell'insignificanza berlusconi non solo investì ingenti risorse finanziarie ma portò anche una visione e un entusiasmo che avrebbero dovuto riportare in vita il club l'assunzione di arrigo sacchi come allenatore fu uno dei primi passi cruciali sotto la guida di sacchi e la leadership di berlusconi il milan è riuscito a risalire in pochi anni tra i club più potenti d'europa i momenti salienti sono stati la vittoria della uefa champions league negli anni 1989 e 1990 così come numerosi campionati nazionali e coppe giocatori famosi e momenti leggendari contraddistinguono anche il periodo di berlusconi al milan con la firma di alcuni dei più grandi talenti calcistici del mondo giocatori come marco van basten ruth gullit e paolo maldini hanno plasmato un'era e creato uno stile distintivo che ha reso il milan uno degli avversari più temuti in europa un momento memorabile è stato la finale di champions league del 1994 quando il milan ha sconfitto il fc barcelona per 4 0 questa vittoria ha simboleggiato il culmine dell'impegno e della visione di berlusconi questa ambizione ha guidato berlusconi e ha influenzato le sue decisioni sia dentro che fuori dal campo l'infaticabile ambizione di berlusconi si è manifestata nella sua volontà di ingaggiare stelle già affermate e al tempo stesso puntare su giovani talenti questa strategia ha portato a un impressionante record di successi ma è stata anche il riflesso della sua implacabile ricerca dell'eccellenza un'eredità duratura silvio berlusconi si ritirò ufficialmente nel 2017 come proprietario dell'ac milan e cedette il club a un gruppo di investitori cinesi tuttavia i ricordi del suo periodo restano vivi sotto la sua guida l'ac milan ha vinto 29 grandi trofei tra cui cinque titoli di champions league e otto campionati nazionali i suoi contributi hanno superato il campo da gioco berlusconi si è impegnato per il miglioramento delle infrastrutture e ha giocato un ruolo fondamentale nella costruzione del nuovo centro di allenamento di milanello inoltre i suoi investimenti e decisioni manageriali hanno portato stabilità economica e riconoscimento internazionale al club conclusione nel corso di oltre tre decenni silvio berlusconi ha lasciato un'impronta indelebile sulla c milan e sul calcio internazionale il suo impegno per il club non è stato solo il riflesso della sua passione personale ma anche l'espressione del suo pensiero strategico e delle sue qualità di leadership nonostante le controverse in altri ambiti della vita l'influenza di berlusconi sulla c milan rimane una storia di successo straordinaria è quell'amore inscalfibile per il calcio e per la c milan che continuerà a influenzare il suo lascito autore anita fache domenica 9 giugno 24